Buongiorno a tutti, oggi è un giorno importante per noi, è la prima volta che montiamo una gru nel pieno centro di Torino e alla volo farvi vedere questo momento. Stiamo montando una gru in via Ciresquadro 7, che è il posto dove abbiamo fatto la nostra festa di compleanno qualche mese fa. Questo è il camion che sta montando la gru, quella che sta scaricando adesso è una zavorra di quelle che serviranno a mantenere la gru in posizione. Come prima cosa abbiamo fatto un getto in cemento armato sulla strada, che è stato predisposto qualche giorno fa, anzi qualche settimana fa, in modo di avere il tempo di asciugarsi. Adesso stiamo scaricando i primi pezzi della gru, che verrà montato in un giorno e mezzo circa. Sarà una gru alta 70 metri. Questo perché? Perché fondamentalmente l'edificio che abbiamo comprato non ha nessun accesso su strada, ha solo accessi da cortile e quindi quello che dobbiamo fare è andare a fare tutti i lavori, a scaricare tutte le macerie, a portare dentro tutte le forniture dal cortile interno. La gru ha un braccio, un'altezza di 70 metri, un braccio da 60 metri. Buongiorno a tutti!